Vai, non parlare così, non puoi. No, ma te lo immagini? Luna, la mia bambina, con un vecchio di 45 anni. No, ma dico, te lo immagini? Lo vedi? Non puoi immaginartelo, perché? Perché è inimmaginabile. Faccio a pezzi. Ti ha detto chi è? No, ma lo troverò, non preoccuparti. Sì, ti credo. Ma se non sai il nome non sarà facile. La cosa è che è grande. È grande, ma può essere anche piccola. E poi tu mi aiuti. In che senso? Che tu mi aiuti. Ok, ti aiuto, ma che cosa vuoi che faccia? Ma tua figlia lo saprà, no? Ah, Marie? Ah, ma lascia perdere. Su Marie non contare proprio. È una tomba, non tradirebbe mai una sua amica, fidati. Ci parlo io con Marie, non preoccuparti. No, aspetta. Ricominciamo dal principio. Forse sarebbe preferibile... Oppure sai una cosa? Una sera tu esci con Luna. Le piaci, sì. Sì. Ma smettila. Le piaci molto. Cerchi di entrare in argomento. Così, per caso. Ma sì, è una bambina, sputerà il rospo, è ingenua. Lo faccio a pezzi. Lo faccio a pezzi.